E questo è il programma che viene qua, il nostro è vicino, c'è la scena qua, e con questo vi ho cominciato, hai capito? Sì? No, questo è il programma, questo funziona tanto no, come c'è? Allora, prima di subire questo, viene il programma, dopo tutti noi devo subire questo, ma... Guarda! Massimo dei consigli ucc Gegneroopå! Sai bravo! ... Ah, giro il cavato! Scbrommun por camera! rice! E così? E' un po' di testo. Grazie. 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 Non riesco tu quando... Però quando ti dico quando... Guarda, è un piano più. Io cambio il mio posizione. E il mio genere di tipo di ruolo qua. Lo faccio questo... Facciamo la mano. Con questo, con la via, viene a via, controlla. Con il cielo, così. Con la via, con la via, con la via, con la via. Con la via, con la via, con la via. Pronti così. Perché? Perché lui... Lui è bloccato bene, lui sempre. E non vuole la cadere. Perché lui è sul luogo così. Lui viene un po' da fermo. E' fermo. Per rapportare... Io devo lavorare con questo canto. E' un po' di carattere, come c'è? Dopo lui perde, lui cade, va a tirare ma io ho fono. Allora, non metti in voce, no? Questo prima, il barriato è stagliato. Esatto, si va spagliato. Da su. Guarda voi. Adesso non sei da un po' di carattere. E' bravo! 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 E' bravo!